L'arrivano altre! Mamma! Sei tranquillo Giuseppe! Oh vabbè! Aiuto! Calme! Stame calme! Ci sono delle donne e dei bambini nella torre! Calme! Stame calme! Calma! Ma non sono questi torti! Guardate quelle travi incastrate nel ponte! Le borrate le spinge! Attenzione! La cacca crolla! Mamma è crollato un pezzo di ponte! Scappiamo dall'altra parte! Che succede? Oddio guarda! La cacca è crollata! Il ponte è ristrutto! Ve l'aveva chitto a Michela! Ve l'aveva chitto! E le buttano anche da questa parte di qua! Attenzione! Andrì! Oh vabbè! È crollato! È crollato anche di là! Siamo in camporale! Mamma! Vieni giù anche la torre! Siamo morti! Gesù Cristo perdoni i nostri pentati! Mamma! Staccarlo Giuseppe! Ehi! Davide ci siamo qui! Aiuto! Non te metti! Mi salveremo! Oddio no! Adelra aiuta! Ci siamo qui! Tu scala! Caterina! No! Cosa succede santo potere nostro? Il ponte è crollato! Ci sono delle donne! E dai bambini! Dei bambini? Oh santa vergine! Cosa facciamo? Fate qualcosa! Qualcuno faccia qualcosa! Marchesa! Il comune faccia qualcosa! E montane di là con questa fiume piena! Ma! No! Chi è? È il padre! Il padre accorto con la spalla del fiume! Toscana Caterina! Virginio! Giuseppe Cater! Papà aiuto! Vengo a salvarvi! Marco! Cosa c'è? Non vuoi salvarvi là! E perché? Perché non c'è il ponte! Ma il ponte c'è ancora! Ehi! Ma no che non c'è! Perché ne mi fa finta! E perché devo far finta? Perché ne mi fa finta! Pietro! Come sta a scelta? Ma è stradotto di là! Il ponte è crollato! Ma allora bisogna buttarlo giù! Sennò il pubblico come fa a capire! Siamo a teatro! Facciamo finta! E cosa vuol dire? Vuol dire che a teatro si crede anche a quello che non c'è! Il ponte è crollato! Ah! Adesso viete qua! Tieniamo avanti a teatro! Sì! Sì!